SIGNIORE E SIGNORI SIGNIORE Impeccabili SIGNIORE Vuoi da un lato per quello che il dinamismo che Orome, il loro top laner, ha inserito all'interno della loro formazione Questo giocatore, proficientissimo su una classe specifica di campioni E stiamo parlando dei duellanti E per quanto riguarda il resto del team, ormai li conosciamo, ormai li amiamo Shadow per quanto riguarda in giungla, uno dei più giovani e promettenti jungler del panorama italiano A Dr. Matt, nome storico della corsia centrale in Italia Ho sentito talmente tante versioni diverse del nome di Dr. Matt E vederlo tornare a Dr. Matt mi confonde Dr. Matt, Dr. Matt 12, Dr.... Alcuni non sono neanche pronunciabili durante uno stream Esatto, erano proprio... lo guarda di Ciccosa? Però è bellissimo vedere Dr. Matt giocare victory Adesso è in meta, quindi non vedo l'ora di vederlo e spero di vederlo Parentesi, sostituzione per quanto riguarda il tiratore degli outplayed che proseguono su quello che è la selezione che abbiamo visto ieri Ieri abbiamo visto giocare Traitor, continuerà a giocare anche oggi al posto di Proxy, tiratore titolare della formazione Nel ruolo di supporto, Briz Che è aggressivo Che è aggressivo, aggressivo Briz Parlando degli inferno, parlando di quella che è la loro performance in generale All'interno del PG Nationals Una nota abbastanza greve, secondo me, va messa sul loro jungler Jungler particolarmente aggressivo, ma su una classe di campioni che sembra aver sofferto tantissimo l'ingresso dell'8.4 Tohai, jungler degli inferno Allora, lui nasce come Manny Sin Ed effettivamente abbiamo visto da parte sua una capacità meccanica su questo campione a dir poco incredibile Il problema è che questo campione, abbiamo visto il giocatore provare a utilizzarlo nonostante l'8.4 No, no Scomparsa del coltello del Segugio rende il povero Monaco ancora più cieco di quanto fosse precedentemente E i risultati si vedono purtroppo sul suo winrate E sta per avere dei buff mostruosi Sì, stanno per buffarlo tantissimo sul BBE È una cosa imbarazzante Allora, uno dei principali che molti andranno a sottovalutare Quello della passiva, dell'energia La rigenerazione di energia che va ad aumentare con i livelli di Lee Sin Semplicemente perché con l'aumentare della riduzione ricarica all'interno della propria build Lee Sin non rigenerava abbastanza in tempo la sua energia con le abilità E invece adesso potrà farlo, il che gli permetterà di avere un mid-game molto più dinamico Ho timore di vedere quello che è Ma signore e signori, entriamo in Champions Select e vediamo un po' Cosa andranno a selezionare? Immediatamente bannato Zack Shadow non lo vuoi vedere su quel campione No, no, no Sei matto a lasciare Zack a Shadow Sei matto Il problema è che bannare Zack a Shadow Lascia comunque aperto a Orome la possibilità di mettere dalla sua in qualsiasi duellante Viene bannato Galio ma sappiamo che Dr. Matt dà la sua altre preferenze all'interno del meta dell'8.4 Semplicemente i suoi due migliori campioni sono due dei campioni che hanno giovato di più da questa patch Stiamo parlando di Anivia e di Victor Dr. Matt è incredibile con questi campioni e i nuovi oggetti da mana sono stati una manna dal cielo per loro Oggetti da mana che sono una manna? Davvero? Davvero l'hai detto? No C'è Camille bannata almeno viene rimosso uno dei campioni principali di Orome Che ricordiamo per quanto comunque preferenziale in generale tutta la classe dei duellanti su di lui Lui nasce come Main Fiora Si sposta poi su campioni come Ecco parlando di Main Fiora a questo punto mettere Fiora contro Sion Se metti Nasus contro Sion a Rido È stupendo Oppure Darius con lo scatto fasico È un'altra delle scelte che vediamo O la sua Illaoi Quella sarebbe bello perché non abbiamo ancora avuto modo di saggiare Non vuoi vederlo quel matchup sai perché è una delle cose più brutte da vedere Per un semplice motivo Il Laoi intanto viene selezionato Bannato Zack Giustamente viene selezionato Power pick in Lugla Ed è la cosa più giusta Il Laoi contro Sion è un matchup odioso per Sion Per un semplice motivo Perché il Laoi può lanciare la sua E E colpire Sion anche alle spalle dei Minion Da causa della dimensione Del modello di Sion E quindi sei là che pensi Ah sono al sicuro Sono dietro ai Minion E vedi Laoi che tira fuori la tua anima E dice Cosa? Ma come è possibile? Sono dietro ai Minion A due ondate di Minion Cosa? Vedremo se Tohaio andrà a lockare Nidalee Nidalee Sinceramente Nidalee Parliamo di lei all'interno della 8.4 E viene infatti lockata Interessantissimo vedere questo pick Intanto perché la versione gemella di Lysin Per quanto riguarda la componente AP Rispetto alla componente AD del Monaco Oh ok Allora se vai a selezionare anche Italia I danni magici si spregano all'interno Allora stavamo dicendo Come si builda Nidalee nella 8.4 Vediamo una build abbastanza creativa per la giungla Che va a inserire la lacrima della Dea Come strumento di controllo del mana Da parte sua E va a inserire subito dopo la lacrima della Dea Le ombre gemelle Che tornano all'interno della randa degli evocatori Proprio in questa patch Ombre gemelle su un jungler AP Sono troppo efficaci La possibilità di rallentare È Veigar Devo fermare Veigar Contro Nidalee Italia Parlavamo della Composizione Della champion pool di Dr. Matt E se effettivamente È Veigar È Veigar È il Veigar di Dr. Matt Quindi Esplode le persone Escludendo Sion Che a me non arrivi Nelle fasi super avanzate della partita Allora Veigar Quando vede un target A bassa vita Comunque grazie allo scaling Con la vita mancante Della ultima di Veigar Riesce a ucciderlo senza problema L'esplosione primordiale Ma Nidalee E Tania Selezionate Alla cieca E Veigar Bannano Brom Con l'inferno Non vogliono lasciare Gli outplay Della combinazione Varus-Brom Sarebbe stato suicida Lasciare non solo Varus-Brom In corsia inferiore Ma Brom Con Sejuani in giungla E con Veigar In corsia centrale Abbiamo un po' Di crowd control Potremmo Potremmo Ash da parte di Seddy Che sarebbe un azzardo Lieve come il Leopardo Da parte sua Non penso Andrà a selezionarla Sarà il È bannata Fiora Stavo dicendo Contro Sion Fiora è incredibilmente efficace E Orome È un main Fiora Facciamo che lo teniamo Sotto controllo Orome E infatti Piccatrox Piccatrox Ma perché sinceramente La questione è che Hai già una tonnellata Di danni magici La Tothblade Vuoi danni fisici Per permettere A Shadow A Varus Di non dover optare Per La Madre in Rovina Immediatamente Salvo che Sion Non sia molto avanti Ed eccolo là Arrivare Selezionato per Orome Che tranquillamente Potrà andare a gestire Sion Grazie alle sue grandi cure Grazie alla capacità Di disingaggiare E non solo Anche la capacità Di arassare Dalla distanza Utilizzando La sua E Mancavano un po' Di danni fisici La tua inferno Arriva Sivir Sivir Ancora non con la skin Da pizzaiola Che è peccato Senza la skin da pizzaiola No Non lockarla Cambia tiratore Cambia tiratore Il punto è questo Vai a selezionare Sivir In una team comp Già a discreto range Perché Diciamocelo Thalia E Nidalee Non hanno questo grande range Ok Nidalee ha le spier Ma quelle basta Hai selezionato Sivir Spier e basta Nuovo famoso artista Spier e basta Sì esatto Sono confuso Dal fatto che nessuno Abbia ancora Fatto una canzone Di Di spier e basta Di spier e basta Esatto Viene lockato Timecatch Interessante Comunque ti dà almeno Uno strumento Per cercare di salvare Dalla spropositata catena Di controlli Degli outplayed Uno dei tuoi Carry Un solo problema I controlli Sono ad area E tu ne puoi salvare Uno Più che altro Ho una domanda Ok No Stavo per dire Potrebbero ancora farcela Se Brizz Non sceglie qualcuno Con dei controlli Ora diventa Veramente difficile Mi spiego Sedi ha praticamente Sulle spalle La responsabilità Di tutto il team Se viene preso fuori Posizione lui È finito il game C'è un problema In molti Hanno Subito Quello che è il trauma Di dover giocare Contro gli outplayed Che vantano Aatrox e Zilean Contemporaneamente Vedi Aatrox Che si lancia In mezzo a 5 Ne uccide almeno 3 E poi torna in vita 3 volte E non ci mette Praticamente niente A staccare la sua passiva Semplicemente Gli basta Lanciarsi in mezzo Al team avversario Attivare la suprema La composizione Degli outplayed È così ben ricamata Nei confronti Di quella dell'inferno Mi piace Mi piace veramente tanto Piccato hanno Una marea di crowd control E anche una marea di danni Cioè Non è che È sbilanciato in qualche modo Perché magari hanno Una mancanza No no Te l'ho detto È proprio Hanno due buone frontline Con Aatrox E seggioani Hanno una buona quantità Di danno magico Con Veigar Sia di tipo Barst Che di tipo di Arras Hanno Varus Con il danno sostenuto Che è principalmente Magico e fisico Perché è ibrido Sì sì Ma Comunque È compensata Questa mancanza Di danno fisico Con Aatrox Che in corso superiore Prende Nell'atto Di danno fisico E anche perché Da parte di Rome Abbiamo visto Diverse build Su Aatrox Abbiamo visto una build Imposta su un Split push aggressivo Magari optare per una Tiamat Da lì un Hydra Sì Abbiamo visto La sua build Antitank per eccellenza Con una lama del re Rovina acquisita Nei primi livelli Con Lo scettro vampirico Come primo oggetto Aatrox Appena riesce A mettere Uno scettro vampirico Nel suo inventario Quel poco di ruba vita Unito al pegno di sangue Lo porta a non subire Più Arras in Corsia Soprattutto contro Sion Che si basa totalmente Sulla Arras in Corsia Stavo contestualizzando Questa cosa Perché trovarsi Contro un campione Ad alto sustain Porta Sion A non poter optare Per la cometa arcana Quindi per una lane dominante Ma per il potenziamento Glaciale Abbiamo visto nella prima Partita di oggi Un Sion col potenziamento Glaciale E' efficace Ma E' limitato Nella sua efficacia Cioè a livello di teamfight E' efficace Sai tu da un lato Stavi mettendo Tutte le responsabilità Sulle spalle di Saddy E io voglio scaricarne Un po' dal tiratore Degli inferno E metterne altrettante Sulle spalle di Toei Perché comunque Nidalee 8.4 È una scommessa enorme Ok È una scommessa enorme Dovesse funzionare Bene Non dovesse funzionare Molto male Perché hai un campione in meno Praticamente sì Hai un campione Che può curare E forse lanciare Qualche lancia Ma signore e signori Dovrebbe mancare Soltanto qualche istante Per entrare all'interno Della land Degli evocatori Ci siamo Ci siamo Signore e signori Terza partita di oggi Per quello che è il PG Nationals Predator Inferno dal lato blu della mappa Contro Outplayed Dal lato rosso E Stavamo commentando Le varie Composizioni Eravamo arrivati Solo nel lato superiore Commentando a profusione Orome e Toei Ma dobbiamo considerare Anche la corsia inferiore Perché Range Maggiore Anche solo sugli 8 attacchi Da parte di traitor Nei confronti di sedi Ma cosa ancora più importante Zilean contro Tamkench Zilean è uno di quei campioni Che rende la corsia Di Campioni statici Come Tamkench O magari Brom Un incubo Doppio smaterializzatore Efficacemente verso quell'oggetto Stai sacrificando la tua fase di corsia Per un oggetto che magari Può darti un vantaggio pressorio Nelle corsie laterali Dato che comunque stai giocando Delle lane perdenti Non avrai quel vantaggio pressorio E una serie di tasselli Che rende la composizione Degli Outplayed Così ben ricamata Non so Qui sinceramente Da parte degli Outplayed Capolavoro su tela Per questa draft Sì Qua mi Sto immaginando La corsa superiore Se Infinity Riesce a prendere vantaggio Comunque Orome Sarebbe in grado di Continuare a farmare Senza problemi Cioè Orome Con Aatrox Contro un tank Non ha problemi a gestirlo Non avrà mai problemi a gestirlo A meno che non arrivi Infinity Con 3-0 E tipo ha una Tornail completa A 12 minuti Ok Il fatto è che Solitamente Aatrox Ha così tanto Sustain innato Da potersi permettere Di bypassare anche Il corpetto di Rovi Sì Nonostante le ferite gravi Che questo va a infliggere All'avversario Non lo so Sai Qui ok L'impostazione è buona Da parte di Infinity Specialmente nei primi livelli Dove comunque Il pegno di sangue Non 4-4 Tohai trova Shadow Poi il posizione costringe Al plesso difensivo Utilizzato la lancia Non va a segno Shadow veramente Basso di vita Deve stare attento Sarà costretto A beccare sotto torre Questo dà libero spazio A Tohai Di invadere la sua giungla E di prendere i campi Dell'avversario diretto Quindi Shadow Che ha completato Soltanto i due buff E un campo eterno Qui si lancia in avanti a Rome Ma non connette Il suo salto E niente da fare Ti sto dicendo Parlavamo prima Di come effettivamente Quella Nidalee fosse una scommessa E per adesso È una scommessa Che sembra voler funzionare Non sembra Non sembra Destare però Una grande preoccupazione Negli outplayed Giocano tranquillamente Aggressivi In corsia inferiore Non hanno timore Proprio per il fatto Che in corsia inferiore Non hanno Di crowd control Pesanti da piazzare Thumb Kench Deve piazzare 3 stack Del suo Giusto acquisito Il suo acquired taste E Contro Zilean e Varus È praticamente impossibile E infatti Gli inferno Dovrebbero Conto high Dovrebbero concentrarsi O sulla corsia superiore O sulla corsia centrale Soprattutto contro Zilean Perché La velocità di movimento Che Zilean Va a dare ai compagni Di squadra È atroce Intanto in corsia superiore Già Aatrox Al Livello 4 Sta obbligando Infini di sottotorre Sai anche Non avere La necessità Di optare Per una Cioè Di non dover Sfruttare il mana Come barra delle risorse Porta effettivamente Aatrox ad avere Una corsia dominante Contro Sion Perché vediamo che Sion Non solo Ha quasi esaurito Le stack di pozione Della corruzione Ma non ha quasi più mana E se da un lato Il mana Grazie al suo Poter sputtare I minion in faccia All'avversario Gli sta permettendo Di gestire alla pari La corsia A breve non sarà più così Cioè lo è In corsia superiore Si sta nascondendo Comunque si sta portando In corsia superiore Dalla 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 corsia Quindi Non è stato visto Da parte Di Infinity Non potrà però Orome Non ha il livello 6 E solitamente Vediamo che Il livello 5 Del top laner nemico E Non lo so Penso che sia proprio Un trigger mentale Per Orome Cioè Il mio nemico Ha fatto il livello 5 Bene Devo divarlo Per fortuna Stavolta Rome Dato come si è strutturato Il push in corsia superiore Non ha trovato Il livello 6 Prima dell'avversario Però Rischiano tanto Qui Matt invece Continua a mettere Pressione sul suo Avversario diretto Veigar Fatica tantissimo In questa fase di corsia Nonostante Stia cercando di farmare Arrassare contemporaneamente Dottor Matt Purtroppo Deve giocare più difensivo Nei comporti Thalia Thalia Mette Costante pressione Sta costringendo Dottor Matt Sotto torre Tutto il tempo Ma nonostante ciò Ci sono solo 3 minion di differenza Solo 3 E decide di optare Per una goccia Subito Lo vediamo Spesso e volentieri Su Veigar Veigar in questo momento Sappiamo Quella che è la sua Volontà in corsia Scalare Vuole sopravvivere E basta Vuole farmare E non ha neanche Bisogno di farmare Così tanto Efficacemente Può tranquillamente Sacrificare dei minion Per gestire una fase Di corsia comoda Qui Guarda quanto è stato Bravo Shadow Che prova L'engage su Tohito Ai che costretta Al flash difensivo Perché vedete Tutto ormata Arrivare Una gabbia Che non va a segno Viene lanciata Lanciare una lancia È una È orribile da dire Triggera dal punto di vista Verbale Maledizione Scagliata una lancia Scagliata Ecco Grazie Viene lanciato Un giavellotto E scagliata una lancia Così ti hai anche I sinonimi pronti Per Ottimo Sono a posto Per tutta la vita Ora Sai quelle occasioni Che spesso e volentieri Riescono fuori Eh no Ma quello ha tirato Un giavellotto Esatto Esatto E al di là di quella Che sarà la futura carriera Come lanciatore di Giavellotto Da parte del mio presente Cocaster Abbiamo visto che Dottor Matt Su quel frangente È riuscito a mettere a segno Diverse abilità sugli avversari Trovando appi dalla propria Per questo ti stavo dicendo Che Veigar è un campione Che può comodamente Sacrificare Minion Perché a differenza Di campioni come Nasus O Sion Che vanno a far dipendere Il loro hyperscaling Dal mettere a segno I colpi finali Sui Minion stessi Veigar no Veigar può anche solo Colpire gli avversari Di sfuggita E guadagna appi dalla sua Stavamo dicendo La sua build Adesso come si va A strutturare Semplicemente Vuole la goccia Perché Data la rimozione Della rigenerazione Di mana Sotto qualsiasi forma Nella corsia centrale Vuoi tra i nuovi oggetti Basati sul capitolo perduto Quello che ti dà Più mana possibile Ed è appunto La staffa dell'arcangelo Sì Più che altro Mi stupiva Perché Ok Vuoi andare a staccare Il più velocemente possibile La lacrima della Dea Ma Il vantaggio È quando ha re-action qua O Roma È molto aggressivo Nei confronti infiniti Blocca immediatamente Un livello di vantaggio Contro il diretto avversario Di corsia È pesante da gestire Per fortuna La discrepanza di livello È set Questo è proprio brutto Sì Più che altro Perché non c'è stato nemmeno Non hanno una control Non hanno Un trinket rosso E vabbè Vabbè Come non adesso Tanto corsia superiore È arrivata Nidale Che forse costringerà O Roma A flash difensivo Invece O Roma A girarsi su questo Primo sangue Su di lui Infiniti Che fa flash Scudo per danneggiare Tra le cose belle E brutte della vita È così brutto Che è bello Sì È cringe No Al contrario È proprio così Che fa un vero uomo Si lancia in avanti Per far detonare Il proprio scudo In faccia agli avversari Sinceramente Da parte di Toai C'è stato un preziosismo Tecnico Che non so quanti L'abbiano notato Un leggero passo indietro Che l'ha portato A non subire Immediatamente I danni Da parte dell'avversario E Ok Inizialmente Questo ti porta A non protrarre La totalità Della tua aggressione Subito Ma ha impedito O Roma Di trovare le stack Della sua passiva E quindi la resurrezione In corsia Bravo Toai Buona finora Questa Nidale Sì È riuscito ad essere Aggressivo Contro il jungler avversario È riuscito a mettere Pressione sulla corsia centrale Semplicemente dando spazio A Phantomless E continuando a bloccare Shadow E adesso Con una ganky corsia superiore Porta Infinity in vantaggio Che si è portato a casa Un corfetto di Robby E un glacier shroud Tanto Per lui adesso Comunque la fase di corsia Dovrebbe essere Abbastanza comoda Contro il diretto avversario Ma Questo porta Aatrox A potersi permettere Delle passeggiate Un po' più prolungate Lungo il rift Dato comunque Il vantaggio in pressione Che Aatrox Può applicare Contro il diretto Contendente Viene spottato C'è qualche punto interrogativo Sulla mappa Da parte degli inferno Aatrox è costretto A volare Di nuovo Sulla corsia superiore Dato che Sion Come abbiamo detto Dato lo stato comodo Della sua build Può permettersi Di pushare Sotto torre Aatrox Buono qui l'inizio Da parte degli inferno Che subisce Un pesante engage Orome Intanto Blocca ogni aggressione Di Infinity E guarda come Quel corfetto di Robby Comunque tiene sotto controllo Le cure Che può Relativamente Però sai Il problema di Infinity È questo Puoi anche mitigare Le cure di Orome Ma Ha poca importanza Quando Infinity Non ha cure E chi dice Non ha mana E Sion Qui attenzione Dottor Matt Aveva trovato la gabbia In corsia centrale Però niente Niente di fatto Qui invece il movimento sismico Da parte d'Italia Schianta Il povero mid laner Degli outplayed Contro Un po' di mine Posizionate a terra E i danni sono buoni La race è buona Ma c'era lì in zona Shadow Quindi effettivamente Phantomless Non vuole rischiare Corsia superiore Buona la gestione Al momento Da parte di Infinity Ma Orome Buona il dive Potrebbe permettersi Da e decide Di non tirare Troppo la cosa Aspettare Il proprio compagno Shadow Semplicemente lo chiuderà E questa è la cosa Infinity potrà semplicemente Ultare in maniera difensiva E andarsene A questa maniera Invece si porta Sicuramente a prendere L'uccisione Shadow 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 Non c'è morto Ok 24 HP Sì diciamo che Non è stata La scelta più saggia Bastava una pernacchia Da parte di un minion E ci sarebbe morto Tohai è in corsia superiore Su un lume Ah Sì è vero Anche quello è vero Me ne ero accorto Orome non ha sprecato la passiva E anzi si lancia Ha la passiva ancora disponibile Teletrasporto Flash difensivo Da parte di Tohai Quindi niente di fatto Shadow Che era ancora lì presente Quindi sarebbe stato in grado Di aiutarlo Abbiamo una pausa Abbiamo una pausa Che ci dà un po' di fiato Per poter analizzare meglio La situazione E a breve andremo a investigare Su quello che è il motivo Che ha portato alla pausa stessa Sì Stavamo dicendo Impostazione in corsia superiore Da parte di Tohai Non molto saggia Dato che comunque Atrox aveva il 60% Della sua barra Della sua Pozza di sangue Esatto Quindi è bastato Semplicemente utilizzare La Q e la E Per arrivare al 100% E andare aggressivo E girarsi su Nidalee Tanto sapeva che Poteva tornare in vita E non avrebbe avuto problemi Vincere il trade Perché Nidalee Ha un pattern di trade Molto semplice Lancia una lancia Si lancia addosso Mate Io i sinonimi Te li ho dati Quindi ora me ne lavo le mani Lancia una lancia Si lancia addosso Saltando con I balzo Il Cuguaro E tira la sua combo completa Nel momento in cui Hai già fatto Un terzo di vita Con una lancia E poi Il progetto è che Quasi tutta Ma non ha sufficienza La vita Sei là E lo guardi O quando la togli tutta Ma l'avversario torna in vita Perché è Aatrox Anche solo semplicemente Tra l'altro Ti trovi in quelle situazioni In cui con Nidalee O sei nettamente in vantaggio O in un uno contro uno Risulti di impatto Basso Contro un campione Adanno sostenuto Che si può anche curare Tra l'altro Comunque Siamo tornati in partita Aggiorniamo Su quello che era Il motivo della pausa Lag da parte di Britz Ma sembrava essere Solo una cosa Isolata Che si è risolta immediatamente Da parte di Phantomless Rimozione di un lume Di controllo Da parte degli Outplayed Infinity Sinceramente Ok C'è morto In quel dive Però non sta veramente Soffrendo troppo Questa corsia superiore Chissà che questi tempi Di gestione della corsia Non cambieranno Una volta completata La lama del re rovina E ottenuti i danni percentuali Da parte di Aatrox stesso Nel momento in cui C'ha quei danni percentuali È facilitato Dall'ingaggiare continuamente Sion Si potrà curare Ancora più velocemente Perché non sarà Un autoattacco su tre Che lo andrà a curare Ma ogni singolo Autoattacco sui minion Sì Quello sì Tende a essere Molto comodo Qui a Rome Appunto parlando di comodità Comunque si porta Tranquillamente A pushare Ondata dopo ondata I minion sotto la torre avversaria Buono il posizionamento Di Infinity Che blocca i minion Proprio fuori dal range Permettendogli Di frizzare la corsia E di Non subire delle aggressioni dirette Da parte del jungler nemico Qui carica esplosiva Posizionata da parte di Britz Non trova la testa Del supporto nemico E anche di questo lato Della mappa Non abbiamo parlato a sufficienza Sinceramente Da parte di Seddi e Jerry La gestione Di una fase di corsia Con Sivir Tamkench Contro Varus Zilean E' eccellente Più che altro Britz E Britz e Traitor Il modo in cui Sembra stiano impostando La corsia E' semplicemente Continuare a tenerla Pushata O semplicemente Rispondere al push Che contro Sivir Non è proprio sempre La migliore delle scelte C'era un tentativo Qui di furto Da parte Della Giavellotto Di Nidale La cura Da parte di Traitor Per proteggere Shadow Dottor Marto In una bruttissima posizione L'ultima lancia Potrebbe Flash difensivo Da parte sua L'ultima lancia Avrebbe potuto portare a casa Tato Hai Rimane sempre Lì vicino In supporto Del proprio mid laner Phantom Nesca Aveva comunque La ultimate Poteva Forse premere un po' più Sull'acceleratore Avrebbe Penso di no Sinceramente Se avessero stato Troppo rischioso Data l'assenza di informazioni Nella metacampo nemica Contro quella Che la composizione degli outplayed Non puoi permetterti Di giocare Nell'assenza di visione Basta un orizzonte Degli eventi Posizionato bene Da parte di Veigar Che sei morto All'istante La suprema c'è Abbiamo già L'abbraccio serafico Nel suo inventario Non vuoi rischiare Perché non ti puoi permettere Di rischiare Ma ha fatto Blaspo permetterselo In verità Era full vita E quella la cosa Lui poteva Permetterselo Di rischiare Perché comunque Se Giovanni Aveva 300 HP scarsi Ma aveva ancora La prigione glaciale Ok aveva ancora La ultima E' vero anche quello Allora no Non poteva Pensavo avessi utilizzato La ultima My bad Sinceramente Il fatto qual è Non puoi permetterti Di dare risorsa A quel Veigar Perché già da adesso Ne sta accumulando Più di quante Ne stai accumulando tu Il farm È alla pari Quasi sul tabellone 10 minion di differenza Non sono nulla Per un Veigar In deficit Specialmente considerando Che spesso e volentieri Una Veigar lane La vai a giocare Come lane perdente Qui Dottor Matt Si porta a schivare Comodamente Quelli che sono I movimenti sismici Evocati Da Talia In corsia centrale Toai continua Deciso Impostare un po' Di visione Anche se in modo Molto timido Ecco questa è una cosa Che sinceramente Non confonde Ma mi lascia Un po' Col naso storto Perché da parte Di Nidalee Vediamo che una Delle sue identità principali Essere uno dei campioni Con il counter jungling Più forte di tutto il gioco L'abbiamo visto Solo all'inizio Però delle impostazioni Aggressive nella giungla Nemica da parte di Toai Poi il fatto che Gli outplayed Abbiano reso le proprie Corsie dominanti Ha tagliato le gambe Alla donna jaguaro Sai cosa? Intanto 4 high Corsi superiore Qui Orome Rischia Flash difensivo Ok Niente Il tutto si resetta Tanto saldi E Jerry Potrebbero Spiro hard engage Shadow Prova ad allentarlo Catena corruzione Non va A segno E ora Una serie di stun Da parte di Britz I porti Permetteranno Orome 1 contro 2 Troai è morto E intanto Corsi inferiore Senti Continua a picchiare Potrebbe trovare L'uccisione su Shadow Niente da fare Un'ultima Q No L'assalto Artico Lo porterà in salvo Orome Che sul dive Riesce a trovare L'uno contro due Ragazzi Prendete il vostro Taccuino Delle cattive idee Prendete una pagina vuota E riempitela Caratteri cubitali Con Divear E Aatrox Dottor Matt Dottor Matt In corsia centrale Non ha l'esplosione primordiale Rischia Da parte di Fattopless Il flash Trova La kill di ritorno Da parte di Dottor Matt Ha usato la ultimate No 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 Semplicemente La meteora dal cielo La materia oscura Esatto La materia oscura Riuscita a eliminarlo Sì Siamo già a quel punto di partita No ma il punto è questo Vuol dire che Dottor Matt Ha predictato La posizione dell'avversario Dove avrebbe flashato E l'ha piazzata subito lì Nel momento in cui ha detto Ok sto per morire E lo so che sto per morire Perché ho 40 HP E basta un autoattacco Di Talia A questo punto giriamoci E proviamo a portare a casa La kill E la porta a casa Sì Ha predictato che Per forte di cose Talia sarebbe dovuta Flashare in avanti Per prendere la kill Esatto A quel punto ha detto Ok la piazzo qui E aspettate I risultati sono arrivati Comodo comodo Pratico pratico Intanto aspettiamo informazioni Su quello che è Il motivo della pausa Sembrano essere ancora Problemi A quella che è la connessione Degli outplayed Ma dovremmo risolvere A brevissimo Sì Stavamo dicendo Azione in corsia centrale Ecco dovremmo tornare A brevissimo in partita Azione in corsia centrale Da cardiopalmo Da parte di Dr. Matt Quella risposta Sì Penso che Phantomless Non se l'aspettasse neanche Perché il flash in avanti Era stato troppo sicuro Abbiamo di nuovo una pausa Signore e signori Ma abbiamo avuto Modo di vedere Quella entusiasmante Autoattacco alla torre Da parte dei seggiuani No erano tre Hai visto che meccaniche L'ha scodisciata Con la sua bola glaciale Erano tre Erano tre Intanto 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 A quanto pare Sono esplose le cuffie Al tiratore degli inferno Che bello Non in maniera letterale Solo in maniera figurata Hanno smesso di funzionare Non sono effettivamente esplose Perché questo Non sono dei Note 7 Esatto Maledissimo Ehm Ho sbagliato Fallito Non so neanche fare le meme Bro No Bro Ehm Tornando in serie Nella corsia inferiore Comunque per quanto Quel piccolo fotogramma Ci abbia dato modo Di ammirare solo un paio di attacchi Sulla struttura nemica Quello che dobbiamo analizzare È che effettivamente Gli outplay Si sono portati In una rotazione aggressiva Per conquistare il primo mattone Vogliono quella torre Perché Nel momento in cui si sono resi conto Che Una lane Che doveva essere gestita Come lane dominante Ovvero una lane Varus Zilean Non ha trovato La dominazione effettiva Della corsia Hanno detto Bene Se vogliamo trovare In questo lato della mappa Il vantaggio che ci serve Mettiamo semplicemente Un sacco di pressione E andiamo a prendere Il first brick Ciò che è successo Effettivamente Nonostante Ancora non è successo Ma andiamo a vederlo Succede in questo esatto momento Eccola qua La prima torre casca Seddi che Subito un pochino di danno Tritor Veramente Vassa di vita Deve stare attento Alle lance di Toei Non penso che rischierà Perché comunque C'è l'ondata di Minion A proteggerlo Una trappola attraverso il muro Dà un poche informazioni A Toei Ne dà più agli outplayed E Toei Sei da solo contro tre E full HP Comunque dalla sua Abbiamo immediatamente La fulgore Curiosa come selezione Vuole ingaggiare Su Shadow Da tutti i costi Il problema è che Il salto in avanti Da parte di Zilean Non puoi dai vari Arriva a tenere Asporto Va ad ingaggiare E l'allentamento c'è E Orome vuole Non lo può permettersi Jerry porta De sua pagione Nidalee Ma niente da fare La ultimate Di seddi Potrebbe essere sufficiente Per uscire Corrono troppo veloce Catena della corruzione È sufficiente E alla fine Tritor si porta A casa di visione E Matt semplicemente Ha premuto R 3, 2, 1 Niente Veigar arriva Bot Premere R Prende una kill E beh Erano tutti passi Quando succede questa cosa Poi bisogna spammare Outplayed Nella chat Specialmente se sei Nel team degli Outplayed È ovvio Ti rendi conto Le possibilità creative Di meme Di meme Che Entrare a far parte Di un team Così ti offre Secondo me è per questo Che Matt e Briz Sono andati lì Probabile Briz è È sufficientemente alto A livello di meme master Dovrebbero creare dei gradi Sì Sì Secondo me sì Dovrebbero creare i gradi Di meme Di memeare Sì Non lo so Devo trovare un modo in italiano Per dirlo bene Sono d'accordo Nel frattempo In corsia inferiore Seedy e Jerry Cercano di Leccarsi le ferite Di quella che è stata L'aggressione Protratta da parte Degli Outplayed Con la rotazione Effettivamente Di tutto il loro team Perché l'azione era partita Con traitor Breed e Shadow Con i rispettivi campioni Però arriva il teletrasporto Da parte di Orome La passeggiata Da parte di Matt Che va ad anticipare Quella di Phantomless E sinceramente Questo è anche grave Perché se ti trovi Con una Thalia Forte Qui Shadow Cerca l'aggressione Ma Infinity Stava ruotando in giungla Se ti trovi Con una Thalia Ad essere surclassata Su quelli che sono Gli spostamenti Nelle corsie laterali Da un Veigar Qualcosa sta andando storto Perchè altro Com'è successo Che non se ne rendevano conto Gli Inferno E hanno continuato A mantenere l'aggressione Penso anche Dottor Matt Che era riuscito A trovare uno stun Ai danni Della povera Sivir Orome costretta la fuga Da un buon danno Di Phantomless Alla fine Sono gli Outplayed A portarsi a casa Il messaggero della landa Cosa che si tornerà Molto comodo Contro questa Thalia Devono prendere Quella torre La corsia centrale Il drago infernale Disponibile Sarebbe il secondo Gli Outplayed Dottor Matt è veramente basso Di vita Gabbiano Però sarà lo subiettivo Dottor Matt Lancia La scosfuma Non è sufficiente Catena nella corruzione Di Traitor Non va a segno Non è stata sufficiente Per un semplice motivo Ovvero lo sfinimento Applicato da parte di Jerry Proprio prima Che la Q di Veigar Venisse detonata Sulla testa Del jungler nemico Qui Phantomless Niente Semplicemente ringraziano Per l'aiuto La lancia di Toei Aiuta Il team degli Outplayed A conquistare Il secondo Drago infernale Su Veigar Mio Dio Che brutta situazione Nella quale trovarsi Per l'inferno Sì Non poterà sfruttarlo Molto Traitor Ma Veigar è felicissimo È abbastanza antitetico Il fatto che il team Degli Inferno Si trovi a perdere Per colpa di draghi infernali Se prima stavamo Ironico Sì Sì L'ironia della sorte Dicevo Dicevo Prima L'azione Non era malvagia Andare aggressivo Nel comportamento di Outplayed Considerato che era una Veramente massività Aveva un senso Ma Toei Rimanendo così tanto A mettere pressione Sugli avversari Ha dato tempo Agli Outplayed Semplicemente Di organizzarsi E gestire Questa reazione È arrivato a Rome Con il teletrasporto Veigar è riuscito A posizionarsi In maniera aggressiva Per poter andare In corsia inferiore E Manca un po' Di organizzazione Negli Inferno Nel decidere Che cosa fare Sembrava che Toei Voleva andare aggressivo Il resto della squadra Voleva un attimo Aspettare Che Ci fosse un'occasione Migliore per andare aggressivi Sì Però Quando quell'occasione Non arriva mai Che fai? Eh sì In effetti sì In pratica Toei serve Perché Almeno va aggressivo Sai che cos'è di Toei Che non mi convince L'aver optato per un Terrore dei Leech Come secondo oggetto istantaneo Perché Su Nidalee Nella 8.4 Ne abbiamo parlato precedentemente Ai T-verse Sì Jerry Si è mangiato il Giorgio Attraverso il muro Bellissimo Bravo davvero Ma questo è un Baron Che provano Il Barone Narcher Hanno i dati sufficienti Hanno comunque anche Briz Che semplicemente pulisce La visione attorno Non hanno visione Inferno Cosa fate? Non possono far nulla Non possono far nulla Chi lo va a combattere? Qualcuno Infiniti è in corsia inferiore E ha il teletrasporto disponibile Ma non sapevano al 100% Che fosse così Veigar Da parte di Dottor Mat Teneva la corsia centrale Totalmente pushata Anche perché Si sta portando verso Tonnellate di penetrazione magica Vediamo la sfera dell'oblio Nel suo inventario Affiancarsi a quelli Che sono i calzari del mago Contro un campione Che vanta dalla sua Solo resistenza magica Fornita gli dai Gambali di Mercurio Ok Infiniti sta aggredendo La torre in corsia Inferiore Però gli outplay Danno il messaggero Della landa E non sembra esserci risposta Contro l'aggressione Totalizzante Sulla corsia superiore Vantaggio oppressore immediato A breve arriverà La capocciata Quella torre Sta per essere annichilita Dato qua Shadow Verrà preso fuori posizione Nella parte di Phantom Alla passiva Alla passiva Ok Riduce mitiga un po' I danni Che sono stati applicati ora Ma comunque Una torre gratuita Per gli outplay Che ringrazia Per questa risorsa In più Altro denaro Nelle loro tasche E guarda Atrox La virtù della triade È stata completata In corsia centrale Veigar Ha completato Il morello Nomicon E ora si sta portando Sul suo terzo oggetto Curioso che non vado A optare per un copricapo Di Rabadon Non c'è bisogno Non hai bisogno Tu ne hai bisogno Avanti Che non lo vuoi neanche Non vuoi andare in overkill Matt che non vuole andare in overkill Non ci credo mai Neanche se me lo dice lui Poi sta Comincia ad esserci un po' di resistenza magica all'interno del team avversario Tra i gambai di Mercurio su Nidalee e su Thalia Vediamo anche un Megatron Clock nelle mani di Sion Che si sta portando verso la maschera dell'abisso a questo punto Data la metista degli eoni Per forza Prima o poi avrebbe voluto farla La metista degli eoni è uno di quegli oggetti E quali la Riot Continua a cambiare nome ogni tre patch Intanto qua Orome Che va solo contro tutti Va subito a utilizzare la sua resurrezione Non ci sarà nulla a fare Perché alla fine Phantom Insieme a Infinity Portano a casa l'uccisione Ma poco importa gli outplayed Perché quella è una torre gratuita E adesso vanno in corso inferiore Dopo aver preparato l'ondata precedentemente Shadow schiva prontamente Una delle lance di Nidalee E questa è una torre che andrà a cadere a pochi secondi Magro impostazione eccellente qui però Da parte degli outplayed Dobbiamolo darla a sufficienza Perché la gestione delle ondate di Minion Per permettere queste azioni sulla mappa È ogni volta eccellente Rispondono bene gli Inferno Che tra l'altro Infinity è alla pari di Fly Fly Come nome Abbastanza Ci va vicino ma non è ancora Non è ancora come Fly Fly e Moon Moon Mamma mia Moon Moon Mamma mamma Che poi tra l'altro Moon Moon si ricollega Oh Sivira inizia da zoppicare Finalmente Mi mancava anche quello È la ultimate livello 2 Che causa quello zoppicamento Non la ultimate livello 1 Ah peccato Infatti prima al 10 Stavo guardando se stavo zoppicando Ma Sivir non zoppica Forse l'hanno fixata No E invece No Penso che a questo punto Non ci stiano più neanche provando Da parte del team di bug fixing della Riot È una meme Lo accetti Vogliono lasciarla proprio zoppicante apposta All'interno della modalità spettatore Dicono Tanto non influisce sul gameplay Fa divertire gli spettatori Perché no? Il giorno in cui lo fixeranno Sarà un triste giorno Per noi No sai che cosa dovrebbero fare Secondo me Dovrebbero fare Sai che su certi campioni Se tipo premi Control 5 Puoi cambiare il modo in cui cammina Ad esempio Heimerdinger Sì esatto Che passa dalla modalità swag Alla modalità normale Su Kaisa Che si mette nel metto Cosa del genere Per Sivir invece sarà la camminata normale E poi la camminata zoppicante Tantissima roba Ti immagini? Tantissima tantissima roba Per questo le hanno dato un motorino Nella skin Pizza delivery Perché è diventata zoppa Non poteva più camminare normalmente Povera Sivir Ci speravo che però Durante la ultimate Salisse sul motorino Sì sarebbe stato fantastico Ne hanno parlato all'interno dei forum E il motivo è semplicemente Game clarity Salire sul motorino Essendo troppo simile Al richiamo base Porta le tue abilità A confondersi tra di loro E quindi non puoi permetterti Ma c'è un enorme cerchio Di energia azzurra Che è sotto Sivir Comunque È corretto Così Che è il motivo per il quale Su alcune skin diari La sfera non cambia colore Nonostante sarebbe Tematicamente opportuno Lo so Rimane sempre azzurra Terzo drago conquistato Da parte degli outplayed Stavolta un drago della nuvola Non il più utile per loro Ma comunque Portarsi in vantaggio Di draghi Nel momento in cui Arrivi anche a 35 minuti E c'è un drago maggiore Sì Schifo non ti fa Anche perché Ricordiamo che Nella 8.4 Il secondo drago maggiore Si configura come una condizione Di vittoria Vera e propria Velocizzato traitor Si vogliono portare Verso la fossa del barone Nasher dove al momento Non dimora Nessuna creatura epica Vorranno magari conquistare Un po' di visione Nel quadrante blu Della giungla avversaria Roma è super aggressivo Nei confronti di piti Anche Redbuff Accodio Vare la sua aggressione Non possono fare molto Intanto Sejuani Ha lanciato una ultimate Sul fianco Provando a ingaggiare Tutto Ai Ma niente da fare È riuscito con un perfetto flash Questo giocatore dell'Inferno A salvarsi Momentaneamente Anche perché per la prossima Il flash Non sarà a disposizione Vediamo adesso Come gli Inferno Decideranno Di impostare La loro reazione Agli avversari Perché a breve Veigar Avrà completato Il bastone del vuoto A breve comunque Varus Avrà completato La lama di rovina Rendendo effettivamente Poco efficace Anche l'accumulo di HP Da parte della squadra avversaria No l'ho visto solo io Cosa Hai visto Veigar Che zompettava Sembrava Sembrava Buggatissimo Era maestoso Stavo guardando le build No Era bellissimo Forse era il richiamo Quando vai Esci dalla fontana E hai Tutti lì insieme Esatto Vabbè La velocità di movimento in più Esatto Esatto Tutti i bonus insieme Allora forse hanno Portato Veigar A buggarsi Poi mentre facciamo VOD review Quella me la riguardo Volentieri Perché merita No no Quella è fantastica Nel frattempo Outplayed Che continuano la pressione In corsia centrale Gli inferno Si trovano a girare Per la mappa In modo molto timido Sanno che comunque Basta trovarsi minimamente Fuori posizione Per essere colti Da una catena della corruzione E da lì essere praticamente Annichiliti Dalla quantità di danni E controlli Che gli outplayed Hanno dalla propria Ciononostante Gli inferno Riescono a mantenere buono Il quantitativo di visione E non solo riescono a negare Un buon quantitativo di visione Alla squadra avversaria Orome Orome è da solo Devi stare un attimo Più attento Perché comunque Ben più di una persona È lì presente Non ha più il red buff Disponibile Dalla sua Ed è un fight Di visione All'interno Della giungla Degli inferno Con gli outplayed Che arrivano Piazza del loro ward Arrivano all'inferno Le puliscono E poi tornano Gli outplayed A ripiazzarne altre Da parte in generale Di Aatrox Dobbiamo anche considerare Che ancora nel suo inventario Non è completo Il pegno di Sterak Pegno di Sterak Che una volta Che andrà ad alternarsi Con la sua virtù Della triade Conferirà Allo spadaccino Darkin Un power spike enorme Specialmente In quelli che sono I suoi continui tentativi Di uno contro tre E poi gli outplayed Ancora una volta Ricevono un barone Completamente gratuito C'erano Toei e Phantom Le sono passati Sopra una ward Un lume Nella loro giungla Gli outplayed L'hanno detto Ok Stanno inseguendo Orome Orome beta Un attimo Ok E gli outplayed Si sono fatti in libertà Questo Questo barone Nascor Non potevano contestarlo Piccola parentesi Il tomo È la bacchetta Della distruzione Nell'inventario di Veigar Catena della corruzione Niente da fare Invece il fisico Stretto al flash Difensivo Tutto armato Vorrebbe ucciderlo Non ha Il range necessario Per farlo Nonostante venga Accelerato da Britz E ora Dopo tutti questi cooldown Partiti da parte Di entrambi i team Gli outplayed Si portano a casa Una torre Della corsia inferiore Con Orome Che la accompagna Insieme a l'ondata di minion Non sembra essere l'unica Perché comunque Insistono anche su quella interna Orizzonte degli eventi 3 Il tag Eccolo qua E' per esempio I tagli E' un nome che va super aggressivo Continua a seguire E' uno Due Tre persone Cascano Potrebbe essere la quadrupla La quadrupla Eccola là Arriva Nonostante Chi gli ha rubato la penta Mi pare sia stato Dr.Math No Ma dai Mi sa che è stato Dr.Math Vergogna Perché con questa quadra Che poteva essere Una penta Orome Sblocca la situazione E su quello che è uno scatto pulminio Gli outplayed Si portano verso la vittoria Sotto il trentesimo minuto GG per loro Trentesimo pulito pulito Proprio la schermata